C'è il rischio che nel giorno del debutto della nuova compagnia aerea pubblica ci sia un grande sciopero. Come stanno le cose? Guardi, l'Italia naturalmente non è il mio settore, perché noi siamo metalmeccanici, ma alcune cose le posso dire sicuramente. Noi ci troviamo di fronte ad un'azienda partecipata pubblica che dice che non applica i contratti nazionali, applica un regolamento interno. Cioè stiamo dicendo che i salari dei lavoratori sono i più bassi, che ci vogliono regole, che ci sono i contratti pirata, che vanno in qualche modo messi in discussione, l'azienda rifiutando qualsiasi confronto con i lavoratori e con il sindacato fa un proprio regolamento ed esce fuori dal contratto nazionale, quindi fa un contratto pirata. Allora io vorrei sapere chi è responsabile e chi non è responsabile. In questo paese si chiama sempre la responsabilità dei lavoratori e del sindacato e si pensa che però responsabilità significa fate come diciamo noi. I lavoratori di Alitalia sono anni che pagano, pagano per scelte sbagliate fatte dai governi e dalle imprese, non per scelte sbagliate fatte dai lavoratori. E che adesso si pensa di riprendere un'azienda così importante con capitale pubblico e che con capitale pubblico dice che non esiste più il contratto nazionale, ma esiste un regolamento aziendale. E i lavoratori di Alitalia vediamo, forse assumiamo quelli o forse li lasciamo a casa e ne assumiamo di nuovi che appunto lasciando nella disperazione le persone non ci sembra molto responsabile come modo di iniziare e soprattutto in una visione in cui la ripresa e la resilienza dovrebbe riguardare l'insieme del paese che è fatto dalle persone che lo abitano e ci lavorano. Lupi, la vicenda lì...